Ci sono andato vicino nel 2020, solo che purtroppo per la pandemia è stato tutto rimandato, stessa cosa da aprile, solo che questa volta sono davvero soddisfatto di quel che ho fatto e non è stato un periodo facile da gennaio a questa parte, solo che sono riuscito finalmente ad ottenere quel che volevo. Ha ottenuto quello che voleva Nicodalo Muscio, è riuscito a conquistarsi con merito sacrifici e abnegazione un posto nelle convocazioni per i prossimi campionati europei under 20 su pista di atletica leggera in programma dal 15 al 18 luglio a Tallinn, capitale dell'Estonia. Sarà la prima maglia azzurra in carriera per il 18enne marciatore andriese tesserato con l'amatore atletica Quaviva ed allenato da Pino Tortora, motivo per il quale preferisce vivere l'esperienza continentale senza particolari assili. Il mio obiettivo è quello di crescere sia come atleta che come persona, è la prima esperienza che io faccio all'estero, mi confronto con l'Europa e l'obiettivo è quello davvero di crescere, di cercare di tirar fuori il meglio di meglio, non avere la maglia al meglio e si vedrà, in gara si vedrà. Senza la maledetta pandemia lo muscio lo scorso anno avrebbe certamente partecipato agli europei under 18 dirieti, dall'inizio di questa stagione ha cambiato invece categoria e passato dagli allievi agli juniors in ambito nazionale, mentre a livello internazionale si cimenterà con gli under 20. Dopo il lockdown del 2020 nella ripresa ho avuto un piccolo problema fisico che non mi ha più permesso di gareggiare nel 2020 e poi ho ripreso a gareggiare nel 2021. Come ho detto prima non è stato un periodo semplice perché comunque è abituato sempre ad ottenere dei risultati, quando vedi un po' che le cose non vanno come tu speri ti inizi a fare due domande. Però finalmente è arrivata questa convocazione che mi ha dato la consapevolezza che il lavoro che sto facendo è quello giusto, sto lavorando con le persone giuste e questo è quel che serve, questo è quel che conta. E' un momento magico per gli atleti andriesi, il marciatore Francesco Fortunato parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 più 1, Pasquale Selvarolo è giunto quarto sui 10.000 metri su pista degli europei under 23 in corso di svolgimento a Tallinn, la settimana prossima invece toccherà al più giovane sulla 10 chilometri di marcia Nicodallo Muscio, 18enne con tanta voglia di stupire.